Radio Rosbrera ciao oggi siamo in compagnia non solo di Agnese Viola dell'astrologa e non solo di Agnese Viola che è già stata ripetutamente nostra ospite ma anche di una new entry Cristiana Caria e parliamo ancora una volta di spiritualità e di anima. Cominciamo appunto da Cristiana per dovere di ospitalità perché in realtà il fulcro di questa trasmissione sarà qualcosa che nel prossimo futuro Cristiana ma anche Agnese stanno organizzando in Sicilia. Ma chi è Cristiana? Cristiana è la fondatrice, attenzione che sembra complicato poi in realtà abbiamo un'infidenza nei confronti di nomi in inglese, dell'International Initiation School, scuola o istituzione o congrega perché congrega anche dei sottotesti positivi in italiano, che sta sviluppando il personaggio, la figura del facilitatore dell'anima. Anche questa dicitura lascia qualche dubbio però appunto io chiedo soprattutto a Cristiana di spiegarmi che cos'è c'è, già ti chiederei se l'anima esiste veramente ma in che modo possiamo aiutarla a emergere? Buonasera, salve a tutti. L'anima è un termine che diciamo molto generico, in alcune tradizioni lo chiamano sé superiore, in altre tradizioni lo chiamano vero sé, ma diciamo la nostra vera natura se vogliamo considerarla, utilizzarla in modo diciamo così, con un termine che è meno religioso e meno spirituale, no? Perché esiste una differenza fra quello che noi pensiamo di essere o c'è stato detto che dobbiamo essere e quello che noi siamo veramente. Quindi il lavoro del facilitatore dell'anima è colui che supporta ogni singolo individuo nella realizzazione di quello che è veramente se stesso, il proprio potenziale. Quindi fondamentalmente noi abbiamo questo percorso di studi, la nostra è una scuola accreditata anche come percorso di formazione per operatori olistico, dove utilizziamo le antiche discipline, tra cui l'astrologia, la numerologia e tantissimi altri, l'I Ching e il Tao, per andare a trovare, grazie a queste discipline, perché gli antichi avevano cercato di comprendere proprio quello che era il progetto, il disegno di ogni singolo essere umano, aiutarlo a realizzare se stesso, imparando qualcosa di molto importante che è l'arte della resilienza, cioè riuscire a vedere dalle sfide, da quello che ci succede, il motivo per cui sta accadendo e quindi aiutarci ad andare nella direzione positiva di che quell'evento, situazione, in cui ha intenzione quell'evento di portarci. Ecco, in passato passo la parola ad Agnese, avevamo parlato di percorsi tracciati, usiamo appunto con beneficio del dubbio, come ha detto la stessa Cristiana, la parola anima, dei percorsi tracciati per la nostra anima. Processi come questo ci aiutano a seguirli o forse addirittura a volte è legittimo ribellarsi a questi percorsi tracciati? Ma tutto comunque rimane una scelta consapevole dell'essere umano. Proprio qualche giorno fa, insieme a Cristiana, abbiamo fatto una bellissima lezione dove abbiamo indagato appunto l'animo umano e la sua possibilità di scelta osservando un film, libro molto importante, molto interessante, che è Le affinità elettive di Goethe. E quindi in questa dinamica fra i personaggi emerge chiaramente questa possibilità, cioè ognuno messo davanti alle sue sfide è legittimato a fare delle scelte, quindi il famoso libero arbitrio di fatto consiste in questo, cioè io posso consapevolmente superare una mia sfida, una mia crisi comprendendo, come ha detto Cristiana, dove mi vuole portare e quindi qual è il significato intrinseco rispetto al mio percorso di crescita come umano, ma soprattutto come anima, però posso anche scegliere di non farlo. E questo chiaramente innescherà quelle che sono le regole, le leggi basiche della natura umana e della natura in generale che predisporranno nel tempo altre esperienze, altre sfide, perché comunque la vita non è che si adagia alla nostra resistenza, alla comprensione, al cambiamento. Se quel cambiamento è importante per me, me lo riproporrà oggi, domani, in un'altra vita, perché è lì che devo andare, devo penetrare quel mistero e quindi trarne il giusto insegnamento. Ecco, ma tutto ciò che avete detto fin dall'inizio, a finire a questo concetto del mistero del cambiamento, presuppone un altro concetto che sembra piuttosto assente dalla nostra società e del quale, diciamo, gli ultimi tre anni hanno denunciato in maniera fragrante l'assenza, cioè la consapevolezza. Allora, se capisco bene, tutto questo è un, lo chiedo a entrambe in questo caso, è un percorso verso la consapevolezza, ma come acquisire consapevolezza in un mondo che nega il valore della consapevolezza? La consapevolezza è un concetto importante, cioè, allora, l'essere umano di solito parla di libero arbitrio e della possibilità di scelta, ma quanta scelta abbiamo in una mente, e questo è mai qualcosa che è conosciuto anche a livello scientifico, che proietta solo quello che vede, solo quello che conosce, scusa. E quindi la consapevolezza è riuscire a vedere i meccanismi che ci muovono e cambiarli. Chiaro che è un lavoro intenso, un lavoro molto duro, io stessa sto lavorando ormai da anni, poi ho creato questa scuola per portare questo messaggio, ma secondo me è la nuova, quello che percepisco, ma poi quello che anche io ho viaggiato molto, è la nuova visione dell'umanità, di un'umanità che evolve da reazioni automatiche a reazioni più consapevoli, perché poi cosa succede? Qual è la conseguenza di queste situazioni automatiche? Spesso ci chiediamo perché ripetiamo le stesse cose, perché incontriamo le stesse persone, persone simili che ci ripropongono, perché dietro ci sono dei comportamenti inconsci, automatici, e lo scopo della ripetizione, non un po' come a scuola, è arrivare a farsi la domanda che cosa sta succedendo. Quindi se io voglio cambiare, uscire da questi schemi, devo pormi la domanda, forse c'è una ragione di cui io non sono consapevole, è andarla a cercare. L'evoluzione dell'umanità va proprio nell'evoluzione di una libertà da schemi che sono innattiti, e da cui abbiamo la possibilità di liberarci. Vicky Wall, che è la fondatrice di un sistema che utilizzo, che è il sistema Orosoma, che pratica anche Agnese, diceva che noi siamo come una capra legata a un albero. Abbiamo la sensazione di essere liberi, ma fondamentalmente i nostri schemi ci tengono legati a questo albero, ci danno la sensazione del movimento, ma non siamo in realtà liberi, perché i schemi sono le nostre paure, la nostra rabbia, le nostre frustrazioni, che ci portano sempre in queste reazioni automatiche. È vero che lavorando su noi stessi allunghiamo sempre più la corda, e quindi la capacità di movimento diventa sempre più grande, fino al punto da liberarci da questa parte. Quindi, chiaro che non è semplice, ma è anche il senso del lavoro che stiamo facendo, se non ci fosse un'umanità che ha bisogno di questo passaggio, non ci sarebbe anche, come si dice, persone come noi che stanno facendo questo lavoro, come un'umanità non si ammalasse non ci sarebbero i medici, tra virgolette. Quindi, diciamo che è un po' fisiologico che pian piano alcune persone si siano poste a questa domanda e iniziano a lavorare in questa direzione, cercando di portare agli altri, come io, come lo è stato per me e come sicuramente anche per Agnese, una nuova percezione di se stessi e della vita è veramente di una scelta, uso il termine libera, che vuol dire libera da delle strutture in cui io non mi accorgevo nemmeno di essere. Agnese, sei stata chiamata più volte in causa. Sì, 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 ma è chiaro, diciamo, come ha detto Cristiana, se non avessimo passato prima noi questa soglia, se non ci fossimo trovate in delle condizioni barra crisi, perché fondamentalmente il concetto è questo, cioè senza la crisi non ci sono domande, perché purtroppo l'essere umano impara soltanto dalla sofferenza, dal dolore, dalla difficoltà. È raro che un individuo che vive bene la sua condizione si ponga domande sull'esistenza, sul perché, lì, sul perché, che cosa sta facendo. Quindi questa scelta viene da percorsi che la vita ti pone davanti e lì poi te la fai quella domanda, cioè che senso ha tutto questo. Le prime volte reagisci, la seconda volta piangi, la terza ti disperi, la quarta dici ok, allora devo fare qualcosa perché altrimenti è inutile continuare. Ed è quel momento in cui poi alla fine sembra che non ci sia più nessuna soluzione, che la soluzione invece arriva. E quello ti fa fare il salto, quello ti fa entrare in quel meccanismo di apertura, di ascolto, di ricezione a un qualcosa che fino a ieri non avevi nemmeno notato che esistesse, che invece ti dà una prospettiva completamente diversa di te stessa e della vita. Anche della situazione oggettiva di difficoltà che in quel momento vivi è che magari ti ha portato a quella cosa, perché una delle illusioni che spesso la New Age pone davanti è che chi fa percorsi di spiritualità, di conoscenza di se stessi, elimina i problemi. Non è così. I problemi restano perché le crisi servono a crescere. L'unica differenza, come ha detto Cristiana, è il modo in cui io guardo quello che mi sta accadendo, il modo in cui io mi predispongo ad accettare anche una lezione difficile, è la umiltà anche di chiedermi che cosa posso farne di questa cosa, cioè verso che cosa mi sta portando e quindi non è sicuramente semplice, però ti posso assicurare proprio perché anch'io l'ho passato, l'ho vissuto, ti cambia la vita, cioè completamente. Ecco, a proposito di cambiare la vita, di processi e di progressi, perché la parola progresso è bella, la nostra società l'ha svuotato un po' di significato nel senso che ha dato tendenzialmente un senso materialista alla parola progresso e anche un senso evolutivo, lineare, che non è questo l'evoluzione, è a proposito di processi e di progressi. Dunque, lo domando intanto a Cristiana, che cosa succederà in Sicilia a luglio? Ma interessante la tua domanda perché mi sarebbe piaciuto aggiungere qualcosa a quello che Agnese ha detto, perché una delle chiavi che ci può veramente aiutare nel nostro processo è il lavoro interiore, con in cima la meditazione intesa come l'osservazione interiore. E il lavoro che faremo in Sicilia sarà un ritiro di meditazione esclusivo, perché la meditazione ci permette di imparare l'osservazione interiore. Noi pensiamo alla meditazione soltanto come mi chiudo gli occhi, osservo e guardo quello che accade. È molto di più, perché questo corpo in cui noi viviamo è connesso a tutto quello che sta fuori, ma è anche connesso con l'energia, chiamiamola universale. Ormai la fisica quantistica ha affermato che se noi siamo parte di questa grande mente e che tutto è un'unica cosa, quindi anche noi siamo parte del tutto. Quindi il grande lavoro che noi, anche come scuola, insieme a Agnese, che mi ha stimolato nell'organizzazione di questo evento, è stato proprio scegliere un territorio, che è il territorio della Sicilia, che è molto importante. Anticamente la Sicilia è legata al mito di Persephone, che viene portata nell'ottetomba da Ade, quindi simbolicamente rappresenta entrare nell'inconscio, entrare nel mondo interiore, per riuscire ad andare a contattare delle energie più profonde, che in realtà non sono solo oscurità, ma sono anche potenziali. Cioè nella terra non c'è soltanto la caverna, il luogo buio, ma ci sono i diamanti, c'è il petrolio, ci sono le pietre preziose. Quindi è andare in questa terra a fare questa connessione profonda per arrivare a sentire una nuova relazione di noi stessi con, uso proprio il termine, la vita e il creato. Quindi abbiamo scelto, grazie a Daniese, poi lascerò anche due, un momento per che lei dica qualcosa, perché lei è, diciamo così, l'ideatrice, l'ispiratrice, essendo poi originaria di questa terra, mi ha stimolato a fare questo lavoro. Abbiamo scelto un luogo particolare, legato a Castelliluce, dove si trova un'opera d'arte, un labirinto, che si chiama il labirinto di Arianna, ma anche la piramide del Trontottesimo Parallelo, che è una piramide che è stata posta proprio in questo punto, anche essa un'opera d'arte dal suo, diciamo così, ideatore, perché questo è un punto importantissimo, perché esattamente dall'altra parte della piramide si trova la Corea. Quindi questa piramide venne creata con lo scopo di bilanciare con la luce, quindi la Sicilia è la terra della luce, bilanciare con la luce, diciamo così, l'oscurità che poteva esistere dall'altra parte della terra. Ed è una piramide costruita in un modo molto particolare, perché è in grado di riflettere i raggi solari in una maniera unica, proprio per i materiali, con questa costruita. Quindi abbiamo scelto di combinare queste energie, cioè andare nei giorni, proprio di giorni che sono molto importanti, che sono l'8, il 9 e il 10 di luglio, che sono i giorni in cui il nostro Sole si allinea con la stella di Sirio, che è il Sole dietro il Sole della Terra, che è praticamente la stella in cui intorno al nostro sistema solare ruota, perché noi siamo in una galassia, e la nostra Terra, il nostro sistema solare ruota, come altri sistemi, intorno a un'unica stella centrale, che si chiama Sirio, che anticamente era considerato il nostro Sole spirituale, per ricevere anche lì energeticamente, grazie a questa piramide che farà l'amplificatore, un'energia molto intensa, quindi mediteremo in quella zona, e più andremo a camminare all'interno di questo labirinto di Arianna, perché il labirinto si tratta di un labirinto unicursale, io sono anche un'operatrice di labirinto unicursale, certificata da un'associazione internazionale che lavora proprio per i labirinti come strumento di consapevolezza, che è la Veriditas, e andare al centro del labirinto unicursale, cioè un labirinto che ha solo un ingresso, un'unica uscita, mentre altro è il Dedalo, che ha più ingressi, un ingresso ma più uscite, in cui rischiamo di perdereci. Il labirinto unicursale è un antico simbolo che risale a 4.000 anni fa, creato proprio dall'essere umano per allineare la vita fisica, quindi la vita materiale, la nostra vita quotidiana, con la vita, chiamiamola dell'anima, se vogliamo stare con questo termine, perché è composto da due simboli che sono il quadrato e il cerchio. Quindi andare al centro del labirinto significa in una maniera molto particolare, la maggior parte delle persone cammina semplicemente, invece c'è una pratica che deve essere fatta per entrare nel labirinto, ci porta a connetterci col nostro vero centro e uscire dal labirinto è riportare quella nuova verità all'esterno della nostra vita. Quindi sarà un lavoro di meditazione molto intenso e tre giorni intensi, a parte di un luogo bellissimo che è a Pettineo, sarà un seminario residenziale in cui entreremo in contatto con la natura e faremo questo meraviglioso lavoro interiore di grande allineamento, perché il 2023 è un anno molto importante dal punto anche numerologico, astrologico, alla fine dell'anno noi avremo una vita diversa da quello che avevamo all'inizio. Questo proprio è il movimento che sta accadendo. Per cui portare questo lavoro e questo cambiamento per entrare in contatto con la nostra vera voce per realizzare quello che è il nostro vero progetto, quello che è il nostro vero destino, se dobbiamo usarla così, è fondamentale. Questo è anche l'intento di questa cooperazione che sto facendo con Agnese e questa luce che mi piacerebbe portare in Sicilia, perché sarebbe proprio la Sicilia un luogo da cui partirebbe energeticamente anche questa nuova consapevolezza, perché la Terra è circondata di ley lines, cioè di queste griglie energetiche che sono simili a meridiani, quindi quando si lavora in un punto si lavora su tutta l'energia collegata a quel punto, quindi il trentesimo parallelo è estremamente importante e quindi creare una grande trasformazione e cominciare a portare consapevolezza, quindi è un impegno grande e chi parteciperà, chi ha voglia di partecipare, tra l'altro sono ancora disponibili alcuni posti per chi avesse piacere di esserci, perché è molto esclusivo, abbiamo 15 posti, potrà sentirsi parte di un grande cambiamento, oltre che personale, collettivo. Agnese, alla fine dell'abirinto c'è la luce, ma c'è la prendiamo così, strammatizziamo, c'è la luce anche nel gatto nero che abbiamo visto passare ogni tanto davanti all'incuratore. E i miei gatti, diciamo, sono collaboratori e portatori di energia trasformativa, quindi mi sostengono. Sì, chiaramente quello che ha detto Cristiana è un lavoro eccezionale e che fa parte del mio sogno, del mio sogno personale, della mia visione. Numerologicamente, Cristiana lo sa, io sono nata il 30 luglio, quindi il 37, proprio nella numerologia è la visione. E, diciamo, ho avuto questa intuizione anni fa ed è diventata il mio il mio focus, no? Anche nella scelta del nome, no? Che ho voluto dare al mio progetto qui in Sicilia e la scelta anche del logo che magari se le persone avranno piacere possono andare anche a vedere sulla mia pagina, su Facebook, ma anche su Instagram. È proprio indicativo di quello che ha detto Cristiana, cioè questa questa Sicilia che ha questa potenza energetica che nella storia diciamo ha rivelato pressa poco la sua parte oscura di di addormentamento, cioè noi tu sei siciliano come me quindi lo sai, cioè noi noi vediamo viviamo nell'anima del gatto pardo dove dove non far nulla significava garantire determinate determinate modalità di azione, determinate stasi e invece entrare in questa profondità con un'altra coscienza e venire e portare fuori invece della stasi, del non fare, dell'oscurità, i talenti, i doni, l'energia positiva luminosa che invece ci connota è veramente il senso, cioè far diventare la Sicilia il motore per questa parte del mondo di luce, di trasformazione, di nuova energia positiva. io lo so che è quasi un'utopia per quello che vediamo adesso in giro, però il lavoro che ho fatto su me stessa in questi anni anche grazie a Cristiana mi ha insegnato che ogni passaggio parte da noi, quindi se ognuno di noi comincia piano piano ad acquistare quella coscienza, quella consapevolezza, quella voglia anche di mettersi in discussione, di tirare fuori quello che ha dentro di buono perché tutti ce lo abbiamo e allora piano piano questa onda comincia ad amplificarsi e come effetto domino sarà veramente poi diffusa, si potrà veramente diffondere su tutta la terra. Io ci spero, questo è il mio sogno, è per questo che lavoro e per questo che chiaramente mi sto impegnando, sperando che ci sia qualche anima così affine alla nostra che possa essere già pronta a cogliere questo messaggio e quindi io me lo auguro e ci spero ci spero tanto. Allora vorrei concludere con una domanda che era senta all'astratto ma non è vero ad entrambe e vi chiedo però diciamo risposte al limite del lapidare. Dunque avete detto entrambe che iniziare dei percorsi non significa risolvere dei problemi. La grande domanda è la ricerca della felicità è l'ideale da raggiungere è una realtà è una utopia o è una fesseria o nessuna di queste quattro cose? Allora faccio fare una precisazione si risolvono i problemi che si affrontano mano a mano perché non è che non risolvi i problemi con cui entri e ti rendi conto che man mano che vai avanti si presentano altri perché ci sono delle cose da continuare a lineare. La ragione per cui sono entrata in questo percorso è proprio per la ricerca di una pace che ho provato in un'esperienza per morte che ho avuto anni fa si trova sempre più pace e serenità interiore. Concordo concordo la felicità è uno stato che non dipende da quello che hai davanti da quello che fai da quello che potresti avere è questa questa sensazione di pacificazione di verità che senti di te stesso e questo ti dà veramente una grande pace e una grande energia questo almeno per me questo trarrebbe un'altra domanda su che cos'è la verità ma troppa filosofia già per oggi lasciamo stare ai prossimi incontri e ai posteri l'artosentenza come hai visto che ci avviciniamo al 5 maggio va bene io ringrazio Agnese Viola e Cristiana Caria di essere state con noi grazie insomma per tutto ciò che c'è grazie a te grazie a te grazie a tutti grazie a te grazie a tutti Radio Rosbrella ciao grazie a tutti